buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo delle fasi delle missioni ruolo e della scelta delle 150 preferenze per gli incarichi e supplenze domanda numero 1 sono una docente di ruolo della scuola dell'infanzia e sono inserita nelle gradatori di merito del concorso per al 0 19 se partecipo alla scelta della provincia per le missioni della mia regione sarò obbligata ad accettare il nuovo ruolo o se la sede che mi assegna e assegneranno non è di mio gradimento potrò rinunciare e restare nella scuola dell'infanzia allora scegliendo la provincia nell'ordine di preferenza desiderato si manifesta l'interesse di entrare il ruolo e l'amministrazione prende atto di questo interesse anche chi non presenta proprio l'istanza rischia di manifestare l'interesse di vedersi assegnato un ruolo d'ufficio quindi la manifestazione di interesse nella classe di concorso a 0 19 oppure il silenzio assenso di chi non fa non produce domanda induce il sistema informatizzato ad assegnare il ruolo e a togliere il ruolo in una fase successiva chiaramente il ruolo precedente questo meccanismo per la verità è stato scritto nelle procedure al ruolo di diversi uffici scolastici regionali ma ha sollevato anche alcune perplessità di illegittimità numero 2 domanda numero 2 se si dovesse rinunciare al ruolo da gm perché non si esprimono tutte le province nel turno della scelta dedicata proprio all'indicazione della preferenza delle varie province della regione in cui si è inseriti in gm sarà possibile poi partecipare alla col veloce non si potrà partecipare alla col veloce se si è rinunciato al ruolo da gm potranno partecipare alla col veloce solo coloro che non sono rientrati ad avere il ruolo perché non in posizione utile dunque è necessario esprime non rinunciare nemmeno parzialmente alle gm andiamo alla domanda numero 3 come funziona la scelta delle 150 preferenze di uno spezzone con il completamento sullo stesso insegnamento e su per esempio distretto nella compilazione della domanda delle 150 preferenze si sceglie per una data scuola x lo spezzone e si può optare tale spezzone senza completamento oppure con un completamento nella stessa disciplina o anche in discipline diverse ma tale spezzone può essere completato anche territorialmente con una scuola con un comune con un distretto con una provincia nel caso si voglia completare sulla stessa disciplina e sul distretto è necessario per ottenere il buon fine di questa opzione esprimere la preferenza del distretto o dei distretti in cui si chiede si chieda spezzone e le stesse opzioni già espresse per la scuola x in tal modo si potrà avere lo spezzone chiesto nella scuola x con l'eventuale completamento negli stretti dichiarati se non c'è possibilità di tale completamento il sistema darà il solo spezzone speriamo che le risposte a queste domande siano di utilità ai nostri telespettatori seguiteci ancora nei nostri canali facebook e youtube perché andranno in onda diverse dirette sulle tematiche della scelta delle 150 scuole preferenze si intende anche sintetiche di comune distretto e anche per le immissioni ruolo seguiremo questa partita per tutto il mese di luglio e anche di agosto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti